Allora, 30 minuti con Alessandro Frigeni, mio arretto sindaco di Almenno San Bordolomeo. Giro pure la clessidra. Buongiorno Bruno, buongiorno a tutti. Buongiorno, cominciamo. Età? 46. Titolo di studio? Laurea in architettura. Dicevi poi che avevi un... Ho fatto poi un master in progettazione ospedaliera presso il Politecnico di Milano nel 2002. Esatto. Professione? Allora, sono architetto, dirigente presso la SST Popa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ricopro attualmente l'incarico di direttore dell'ufficio tecnico. Contento di essere di nuovo sindaco? Sì, molto. Ringrazio i concittadini almenesi per questa importante riconferma anche in termini numerici. Sindaco a tempo pieno? Allora, no. Da sempre, io ho sempre portato avanti la mia professione perché ritengo molto importante dare il giusto valore della passione, dell'impegno disinteressato in amministrazione comunale a fronte invece del proprio lavoro che deve essere ben distinto dall'attività politica e amministrativa. Ma è dura conciliare le due cose? Sicuramente sì, è molto faticoso. C'è da dire però che si possono ottenere degli insegnamenti e delle esperienze che possono giovare anche nell'altro ruolo. Nel mio caso penso in particolare al tema delle opere pubbliche e del PNR che porto avanti sia nel mio ruolo in ospedale a Bergamo, sia nella mia attività di sindaco qua al Menno. Effettivamente il PNR è un po' un minimo comune denominatore. Ho imparato molto, soprattutto su questo tema della programmazione, delle opere pubbliche e degli investimenti, su tutti e due i fronti e quindi mi è stata veramente utile come esperienza. Quindi una competenza che diciamo spalmi sulle due professioni. Esattamente, mi viene davvero utile perché quello che imparo in un ambito può essere utile anche nell'altro e viceversa quello che hai imparato nella professione ti può servire anche in politica sicuramente. È stata un'elezione in discesa, come ti spieghi questa rinuncia per la prima volta in paese di altre liste a tenerti testa? Ma allora, non spetta certo a noi fare valutazioni su altre forze politiche, ad almeno San Bartolomeo. Diciamo comunque che il timore in un primo momento rispetto al quorum c'è stato e quindi fin da subito abbiamo voluto sensibilizzare la cittadinanza almenese su questo rischio del quorum affinché venisse a votare a giugno alle elezioni. Devo dire che la comunità almenese si è mobilitata in massa, direi, perché sono venuti veramente a votare in tantissimi perché, e questo è stato un po' il messaggio, volevano garantire al nostro comune un'amministrazione che potesse proseguire e scongiurare veramente il rischio del commissariamento oltre che premiare sicuramente il lavoro fatto dalla nostra amministrazione in questi cinque anni. Ma voglio dire senza l'opposizione, i consigli sono un po' così... Allora, non dobbiamo sottovalutare questo aspetto perché il fatto che non ci sia un'opposizione non ci deve indurre a superficialità o a dare nulla per scontato e come ho avuto modo di dire anche nel messaggio dopo le rilezioni alla cittadinanza diciamo che questo consenso, sono quasi 3.200 i voti che abbiamo ottenuto per la nostra lista in queste elezioni, veramente tanti, sono pari al 91% di fatto di chi è venuto a votare ci responsabilizza ancora di più perché dobbiamo rappresentare una vasta parte della comunità e quindi dobbiamo essere molto attenti a cercare di vedere e di soddisfare un po' tutti i bisogni delle varie fasce della popolazione. Anche in assenza di un'opposizione comunque dovremmo muoverci con grande attenzione e sensibilità. L'opposizione la fate voi in sostanza, a voi stessi. Dovremmo essere bravi anche a automonitorare il lavoro che stiamo facendo. Nel consiglio di insediamento hai menzionato tuo padre Giuseppe. non più fisicamente con noi. Un episodio con lui che ci tieni a ricordare? Beh, lo dico spesso anche ai miei collaboratori. Ho tantissimi ricordi di quando con lui giravo negli anni Ottanta per il Paese a vedere le opere pubbliche che l'amministrazione di cui lui faceva parte aveva realizzato. Penso al campo da calcio in Albenza, penso a questo municipio che è stato realizzato proprio in quegli anni, più di 40 anni fa, e con grande dovizia di particolari mi mostrava questi cantieri. E io ero un bambinetto che guardava incantato queste opere che stavano sorgendo e devo dire che mai mi sarei poi immaginato, 40 anni dopo, di trovarmi qua anch'io a sviluppare, a promuovere la realizzazione di queste opere qua. Evidentemente, diciamo che il seme che mio padre ha gettato ha dato questi frutti e gli sono assolutamente grato per questo. Che ruolo aveva lui in comune? Mio padre è stato innanzitutto in amministrazione comunale per circa 30 anni ad almeno San Bartolomeo. Ha ricoperto vari ruoli, consigliere, giovanissimo, poi assessore e anche vicesindaco. E ha svolto anche le funzioni di assessore in comunità montana Vallimagna. Quindi dove anch'io sono stato assessore nei primi anni 2000, lui stesso mi consigliò questa esperienza sovracomunale perché è importante imparare anche a fare rete con gli altri comuni. Secondo me questa è la sfida anche di oggi, andare oltre quello che è il perimetro dei nostri territori e cercare di fare squadra immaginando non solo opere sovracomunali ma anche servizi di buona efficienza sovracomunale. Quando sei diventato sindaco cosa ti ha detto? Lui è stata la prima persona che ho incontrato, sono andato da lui subito e mi ha abbracciato, non mi ha detto molto ma aveva gli occhi lucidi e in quegli occhi lucidi c'era probabilmente tantissimo di quello che lui in quel momento stava provando. La tua collega di Villa Dalmè, Valentina Ceruti, sostiene che per un uomo essere sindaco è più facile. Sei d'accordo? Ma allora è tutto relativo, credo che molto fa l'esperienza, la competenza e io vedo oggi donne veramente in gamba, molto capaci che stanno lavorando benissimo ai vari livelli, a vari ruoli. Basta vedere anche nella politica nazionale europea, poi da poco abbiamo anche un sindaco di Bergamo, Donna, che mi pare abbia iniziato il mandato con grinta ed energia, per cui sempre di più credo che ormai queste differenze di genere in politica siano ormai minime. Quali deleghe tieni per te? Allora, in continuità e in coerenza con quanto fatto nei cinque anni precedenti, io non tengo nessuna delega perché io credo molto nel sindaco coach, il sindaco che non va in gol lui ma fa girare la palla, il sindaco che sa premiare e sa far emergere le capacità dei propri collaboratori, e quindi tutte le deleghe sono assegnate ai vari assessori, ai vari consiglieri delegati. Io sono a loro supporto, io gli do una mano per sciogliere magari i nodi, fare problem solving quando c'è qualche problema, magari anche occuparmi di quei temi che sono un po' a cavallo tra le varie deleghe, dei vari assessori e consiglieri, ma soprattutto io mi occupo del monitoraggio dell'attuazione del programma, cioè cerco di verificare che ogni assessore e un consigliere delegato stia proseguendo nel proprio cammino in modo bilanciato e equilibrato e stia portando avanti il programma elettorale con il quale siamo stati eletti dai cittadini. Possiamo dire che sei uno dei pochi sindaci in Bergamasca con una forma fisica invidiabile, pallacanestro, tennis, corsa, dedichi molto tempo alla cura del corpo? Allora, in realtà poi non moltissimo, probabilmente ne necessiterei di più. In realtà, unitamente la grande passione che ho per la musica, in particolare per la chitarra, fare questi sport alla sera di fatto, aiuta tantissimo a in qualche modo sgravare il peso mentale dell'assunzione di decisioni importanti, l'elaborazione di proposti, idee, ragionamenti, confronti. Per chi come noi passa tutta la giornata tra deliberazioni, riunioni, call, telefonate, messaggi e quant'altro, alla sera poter avere uno sfogo, soprattutto psicologico, e liberare queste energie è assolutamente fondamentale. Quindi un sindaco sportivo è meglio di un sindaco sedentario. Direi di sì, è importantissimo queste cose. Ci illustri un po' le caratteristiche dei tuoi assessori e di cosa si occuperanno? Allora, innanzitutto, in continuità con quanto è accaduto negli ultimi cinque anni, il vice sindaco, sono ancora Massimo Todeschini, che è anche il nostro capogruppo, persona splendida, apprezzatissima nel paese, tra l'altro è stato riconfermato con un alto numero di preferenze, più di 300, infatti un record ad almeno un San Bartolomeo, uomo che ben conosce il tessuto della comunità, in particolare anche le fasce più popolari, gli anziani, molto addentro la comunità. Quindi lui continuerà a occuparsi di servizi sociali, servizi generali, servizi demografici, servizi cimiteriali. Poi il secondo assessore sarà poi Vittorio Berti, giovane, anche lui ha fatto anche una bella performance in tema di preferenze, perché comunque la rappresentatività che le preferenze danno è uno dei criteri importanti anche insieme alla competenza e all'attribuzione dei vari incarichi. Vittorio si occuperà di urbanistica, edilizia privata e opere pubbliche, per lui una sfida sicuramente interessante. Vittorio è un ragazzo, lo chiamo ragazzo, anche se anche lui ormai ha passato i 30 anni, di grande preparazione, di grande curiosità, e quindi riteniamo sia l'altezza di questa sfida, proprio perché è capace anche di occuparsi di progettualità importanti e molto ampie. Invece sempre, per quanto riguarda gli assessori, è confermata Anna Rita Cornali, assessore all'istruzione, in continuità con il lavoro svolto negli ultimi 5 anni, e lei si occuperà del programma di edilizia scolastica PNR, che questo comune ha intrapreso da qualche tempo. Abbiamo inaugurato negli ultimi anni i lavori di ampliamento delle scuole medie e di ampliamento dell'asilo nido, nei prossimi anni ci aspetta invece l'inaugurazione del nuovo polo dell'infanzia e dell'ampliamento delle scuole elementari. Due progettualità alla quale Anna Rita Cornali sta mettendo tutta l'attenzione. Anna Rita è una donna ben dentro il mondo della scuola, perché è docente presso le nostre scuole medie ed è anche responsabile del plesso presso l'istituto complessivo Luigi Angelini, quindi è la classica persona giusta al posto giusto. Poi c'è una new entry, sarà assessore Sabrina Castelli, sempre alle deleghe ecologia ambiente e trasporti e mobilità, che già aveva assunto nel quinquennio precedente. Sabrina è una donna molto tenace, molto precisa, puntigliosa, attenta, che ha saputo gestire molto bene dei servizi delicati, molto sentiti dalla cittadinanza, come quello della raccolta rifiuti, dell'isola ecologica e del trasporto. Quindi anche in questo caso riteniamo che le vocazioni e le competenze della persona si sposino con il ruolo che gli abbiamo attribuito. Poi ci sono i consiglieri delegati, a partire da Gian Battista Brioschi, mio predecessore, è stato sindaco per dieci anni. Lui è un po' il nostro ministro degli esteri, nel senso che si occupa di tutti i rapporti con gli enti sovracomunali e sovraordinati e lui attualmente ricopre l'incarico di presidente dell'Assemblea dei Sindaci della SST Papa Giovanni XXIII, presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Vallemagna-Villa Dalmè, della Fondazione Lemine, è il nostro rappresentante in comunità montana, è una persona che si adopera molto nei rapporti con i comuni, con le altre istituzioni, sa tessere bene queste relazioni e si sono visti anche dei risultati importanti da parte sua proprio in questi anni. Lui proseguirà in questo ambito. Poi abbiamo due new entry, che sono due neoconsiglieri, giovani e molto promettenti, Giulia Caccia, che seguirà lo sport, gli eventi, le politiche giovanili, e Claudia Mazzoleni, che seguirà la cultura, il servizio di tecario. Hanno raccolto molte preferenze, a testimonianza di un radicamento importante nella nostra comunità e siamo certi che sapranno fare bene. C'è il ritorno in consiglio comunale di Luigi Bonanomi, che è stato per tanti anni nostro consigliere, nelle giunte guidate da Gian Battista Brioschi. Si occuperà di manutenzione e protezione civile, visto che lui ha avuto anche dei ruoli importanti negli alpini e nella protezione civile locale. E per quanto riguarda le deleghe, concludiamo con Nicola Manzoni, perito informatico, grande conoscitore delle nuove tecnologie in materia di digitalizzazione e di innovazione tecnologica. Quindi si occuperà di pubblica sicurezza, di informatizzazione, di servizi tecnologici e di commercio, in continuità con quanto fatto fino ad ora. La squadra poi si completa con due consiglieri, che sono stati eletti anche loro per la prima volta, che sono Monica Todeschini e Marco Mafioletti. Entrambi, tra l'altro, provengono da altri paesi, quindi rappresentano, diciamo, quel pezzo di paese, quegli almennesi che di fatto sono arrivati a vivere ad Almenno, in qualche modo hanno messo radici, e già subito si sono affacciati all'impegno sociale e amministrativo. Accennavi prima al tuo ministro degli esteri, il Brioschi. Quali sono i risultati che ha portato a casa in questi anni? Devo dire che Gianni si è occupato in modo molto attento, con grande passione e impegno, dedicando anche tante ore della sua giornata, nel lavorare fianco a fianco, soprattutto con i piccoli comuni dell'Alta Val Brembana e dell'Alta Val Limagna, che afferiscono al distretto dell'SST Popagio XXIII, che ha dato supporto nella gestione delle problematiche connesse alla mancanza dei medici, dei pediatri, le guardie mediche. Io ricordo che veramente Gianni, sempre al telefono, nel cercare di fare da raccordo tra le istituzioni centrali, in particolare penso alla TS, la SST Popagiovani, con queste piccole realtà dove in effetti amministrare in questi paeselli non è nemmeno cosa facile. E avere comunque una persona come Gian Battista, che fa da riferimento e fa da filtro con le istituzioni, secondo me per loro è stato importante. La tua prima decisione importante per il paese in questo nuovo mandato? Beh, diciamo che già siamo al lavoro nel proseguire i tre grandi cantieri PNR che abbiamo in essere e che i cittadini vedono un giorno avanzare, che sono il nuovo polo per l'infanzia per 3 milioni e 300 mila euro, sempre fondi della Comunità Europea, fondo perduto, il cantiere proprio qua vicino al municipio di ampliamento della scuola primaria per 3 milioni di euro e poi la nuova isola ecologica per 1 milione e 3. Capite bene che per un paese di 6.600 abitanti già portare avanti più di 10 milioni di euro di opere è un impegno molto importante e diciamo dal giorno dopo della mia rielezione ero già con i miei collaboratori e con l'ufficio tecnico al lavoro su questi cantieri per portare avanti queste opere che dovranno essere completate entro i termini del PNR stesso. Ma la materna mancava in paese? La materna pubblica? No, allora c'è ma creiamo un vero e proprio polo per l'infanzia, nuovo, tecnologicamente adeguato, in una posizione viabilisticamente strategica quale è quella della Bilora e siamo certi che sarà ancora più bello e attrattivo. Tre doti che ritieni di possedere per amministrare nel modo migliore? Ma allora la tenacia sicuramente nel senso che sono uno che non molla fino a che non ha raggiunto il proprio risultato credo anche mi permetto una certa capacità di mediazione cioè nel capire anche che soprattutto quando si ha a che fare con altri interlocutori ogni tanto bisogna anche mollare qualcosa per raggiungere anche un risultato sono però per le mediazioni al rialzo e non al ribasso che purtroppo sono sempre un rischio cioè io credo che si possa sempre raggiungere un buon equilibrio quando tutti fanno un passo verso l'altro purché questo passo ci porti in alto e non in basso. Il tratto principale del tuo carattere? Sono anche abbastanza preciso molti dicono perché sono della vergine questo non lo so perché non mi intendo molto di oroscopi vari però sono anche un tipo preciso meticoloso pianificatore che tende a portare avanti lavoro per progetti è un'abitudine che diciamo ho acquisito anche nel mio lavoro in ospedale in un'ufficio tecnico in ospedale lavorare per progetti e fare in modo che ogni giorno il progetto avanzi piano piano. Sei permaloso? Un po' un po' diciamo Invece il difetto? Difetti tanti non saprei nemmeno da da dove cominciare tendo spesso a cercare sempre una soluzione che metta d'accordo tutti e so che in politica spesso questo non è non è possibile e mi rendo conto che poi il rischio di queste mediazioni che come dicevo prima avvengono poi al ribasso quindi spesso mi tengo lì questo mantra del tipo non puoi sempre accontentare tutti ma ogni tanto c'è sempre qualcuno che fatalmente deve venire scontento perché di base sarà un po' la mia forma mentis la mia formazione anche politico-amministrativa cerco sempre delle soluzioni che uniscano che non siano divisive. Un tweet per descrivere a un estragno almeno San Bartolomeo? Beh, allora un paese un paese arancio perché c'è stata attribuita la bandiera aranciona del Touring Club perché è un paese bello è un paese verde è un paese con una comunità vivace dinamica in cui è bello venire ad abitare. Abbiamo già superato i caratteri a disposizione questo è un po' uno slogan hai ragione però al di là di tutto è confermato veramente dal saldo naturale in crescita siamo uno dei sei comuni della provincia ad avere il saldo naturale tra persone nate e persone decedute col segno più e quindi questo è credo al di là dei miei tweet il dato numerico che è la cifra di almeno San Bartolomeo oggi. C'è un ruolo strategico che il paese occupa o potrebbe occupare nel contesto della provincia? Sì questo questo comune riveste proprio un ruolo strategico dal punto di vista socio-economico e geoterritoriale perché non è riconducibile a nessun ambito territoriale preciso noi almenesi non siamo non ci riconosciamo totalmente nell'isola nemmeno nella Valli Magna nemmeno nella Val Brembana evidentemente nemmeno nella Val San Martino e nemmeno nell'Interland di Bergamo perché siamo esattamente al confine di tutti questi sistemi territoriali noi siamo snodo proprio tra l'isola la Valli Magna la Val San Martino la Val Brembana e l'Interland siamo a pochi chilometri dall'autostrada dalla città dalle valli quindi per sua natura parlo degli almeno perché diciamo la stessa cosa diciamo può essere riconducibile anche se vogliamo ad almeno San Salvatore Barzana Palazzago cioè tutta questa fascia di 20.000 abitanti è lì al confine tra questi sistemi territoriali e essere diciamo territorio di confine e quindi di scambio quindi di relazione di passaggio per tante persone è sicuramente una grande potenzialità qual è la difficoltà maggiore oggi nell'essere sindaco beh oggi la difficoltà maggiore credo sia quella di esserci dappertutto essere dappertutto avere una risposta per tutti nel momento in cui oggi i cittadini hanno un rapporto diretto tramite social tramite smartphone ormai buona parte dei cittadini ha il numero di telefono del sindaco e gli richiede le cose più disparate dal problema tecnico alla buca da asfaltare al servizio sociale da introdurre o magari a proposte più importanti al problema dei rifiuti all'evento culturale e il sindaco deve essere sul pezzo su tutto deve avere una risposta per tutto avere un quadro complessivo e soprattutto avere un gruppo di collaboratori che lo supporti e che ognuno segua un progetto ma non si rischia di andare un po' in burnout così assolutamente non nego che negli ultimi cinque anni vuoi con il covid vuoi con altre problematiche abbiamo avuto i momenti difficili ci sono stati i momenti in cui ti trovi mille risposte da dare le energie mentali si affievoliscono e lì diventa dura e lì però bisogna chiamare in causa la grande passione cioè la la vocazione che hai nel ricoprire questo ruolo che è difficilissimo è duro però ti dà come a me ha dato delle soddisfazioni enormi almeno San Bortolomeo almeno San Salvatore in un unico almeno è fanta politica locale? ma allora già in passato quando si era creato un comitato che aveva cominciato un po' a portare avanti un po' questo tema io avevo partecipato a degli incontri io credo che i due almeno debbano voglio dire proseguire il lavoro insieme e mettere in comune le proprie energie e le proprie risorse distinto sei più per il sì o per il no? allora io sono sicuramente per il sì perché io credo che un unico almeno sarebbe un polo diciamo ancora più attrattivo ancora più importante sarebbe un centro di circa 13 mila abitanti che sarebbe il centro di riferimento per tutta la zona ovest della provincia il Brembo Santomè il Golf dell'Albenza un territorio ricco di possibilità turistiche culturali e di svago ci sono progetti in cantiere per rafforzare questa forza attrattiva territoriale? assolutamente sì insieme al comune di Paladina come sicuramente sai stiamo sviluppando il progetto della passerella ciclopedonale che dovrebbe collegare la ciclovia del Romanico che gira attorno a Santomè che abbiamo inaugurato l'anno scorso con la ciclovia dei colli che si collega alla ciclovia della Val Brembano ma sono un bel disegno oppure no allora per questa opera ci sono già dei fondi della regione e adesso con il collega sindaco di Paladina stiamo vedendo di recuperare risorse finanziarie che mancano per dare concretezza a questo progetto non rientra nel PNR il PNR al momento non prevedeva dei fondi per queste ciclabili locali purtroppo e quindi dobbiamo trovare altri canali finanziari marginalità sociali sul territorio sono aumentate sono cambiate allora direi che sono abbastanza stabili nel senso che c'è ormai un nocciolo duro diciamo di di famiglie con problematiche di fragilità sociale sentirei dire un centinaio di persone che sono seguite da diverso tempo dai nostri servizi sociali e dal nostro assessore servizi sociali che tra l'altro dedica loro molto tempo che ormai si è stabilizzato si è un po' passiamo in termini cronicizzato diciamo questo gruppo di famiglie che fa fatica a uscire da questo da questo diciamo questa situazione di difficoltà quindi ecco sono sempre un po' loro che negli anni in qualche modo manifestano le loro problematiche e il comune cerca di dare una mano quindi direi che è stabile tuo politico di riferimento? allora anche passato non ce n'è uno preciso però io ho una grande stima per i governanti diciamo che subito dopo la fine della seconda era mondiale penso al nostro De Gasperi penso a Schumann penso ad Adenauer ebbero la capacità di sedersi al tavolo di immaginare quell'Europa pacifica che al netto di qualche brutta notizia come la guerra in Ucraina e quant'altro oggi dopo quasi 80 anni è ancora così e pensare che quegli uomini venivano da anni in cui hanno visto le peggiori brutalità in campo milioni di morti drammi inenarrabili come quello dell'olocausto hanno avuto la capacità di visione di immaginare di realizzare un'Europa pacifica unita e coesa credo sia stato straordinario e tuttora loro rappresentano un esempio immenso anche per i politici di oggi spero che mi piacerebbe che anche i politici di oggi guardino di più a questi riferimenti insomma che libro stai leggendo? allora in questo momento sto leggendo la guida del Messico perché sarà a breve oggetto di un di un mio viaggio con la mia famiglia a me piace molto viaggiare alla scoperta di di nuove culture che non conosco a cavallo tra architettura cultura inogastronomia musica a me piace molto anche preparare questi viaggi con la visione di alcuni film storici o comunque in lingua anche no sulle culture che vado a visitare mi piace proprio prepararli per tempo anche dal punto di vista culturale in modo tale da arrivare lì oltre a dire due parole nell'idioma locale anche poter capire un po' meglio la cultura che si va a visitare finora è il viaggio più bello che hai fatto? ne ho fatti tanti ne ho fatti tanti tutti bellissimi veramente molto molto difficile voglio dire istintivamente istintivamente ti dico che quando lo scorso anno con la mia famiglia mia moglie e i miei figli siamo andati a visitare i villaggi dell'entroterra Kenyota e abbiamo potuto entrare a contatto con loro e soprattutto i miei figli hanno visto le condizioni di povertà ma anche se vuoi di serenità di questi bambini africani gli hanno donato i loro vestiti i loro giochi lì ho veramente realizzato un senso importante di questi viaggi e una mission che veramente può dare qualcosa a loro agli africani ma soprattutto da tanto anche ai miei ragazzi che hanno potuto capire cos'è la povertà e cosa si può fare di concreto per aiutare queste persone quindi è stato un momento veramente che mi emoziona ancora adesso scrittore preferito Andrea De Carlo Andrea De Carlo di cui ho letto quasi tutto scrittore straordinario che seguo oramai da più di 20 anni tieni molto la comunicazione istituzionale attraverso i social e le app di messaggistica fai tutto da solo? allora sì in collaborazione con i miei collaboratori però diciamo che il pallino del costruire i comunicati stampa l'ho sempre avuto e lo ritengo importantissimo perché come dico sempre a tanti amici colleghi ma anche a tanti cittadini è importante fare ma è importante anche comunicare perché comunicare la positività del fare secondo me crea un effetto volano di positività che è molto utile è un bel esempio vedere che si fanno cose buone anche per gli altri comuni ma è anche un'occasione per me per prendere esempio da altri sindaci vedere che si fanno cose buone comunicare positività comunicare delle good news e ancora pochi secondi sulla Clessidra se avessi 30 minuti a disposizione in che istante nel passato ti piacerebbe tornare? oddio diciamo che vengono in mente i ricordi della così spensierata infanzia insomma ho dei bellissimi ricordi quando penso alle mie stati al mare nella spiaggia in altalena spinto da mio padre pochi anni di vita nella felicità e nella spensieratezza totale penso che chi tutto il giorno deve pensare molto alla testa molto occupata sogna di ritornare bambino spensierato in quegli anni grazie grazie a te Bruno uno grazie a te Bruno grazie a te Bruno grazie a te Bruno grazie a te Bruno grazie a te Bruno